L'ennesima vittima della strada, una giovane vita spezzata, quella del 19enne Vincenzo Lanotte, sulla provinciale che collega Trani a Corato. Viaggiava in sella al suo ciclomotore, il giovane Coratino, e indossava regolarmente il casco. Ma questo non è bastato a salvargli la vita, perché l'impatto con l'autocarco che lo precedeva, mentre viaggiava in direzione di Corato, di fatto, lo ha prima fatto scivolare sull'asfalto e poi lo ha reso una biglia impazzita. Accade tutto nella tarda mattinata di mercoledì. L'autista del mezzo pesante, un andriese di 43 anni, rimasto illeso, è il primo a soccorrere la notte. Poi l'immediato arrivo dell'ambulanza del 118 ha consentito il trasferimento del giovane Centauro nell'ospedale Bonomo di Andria, dove i medici hanno messo in atto un disperato tentativo di strappare alla morte il 19-20, nonostante le condizioni di Vincenzo Lanotte fossero apparse subito gravissime. Sull'esatta dinamica dell'incidente faranno chiarezza gli agenti della Polizia Municipale di Trani, intervenuti per i rilievi, mentre si allunga la lista di tragedie sulla strada che hanno funestato questa estate nel territorio della Bat. Con la pericolosità delle strade provinciali, oltre alla Trani Corato, anche la Andria Trani è stata teatro di incidenti mortali che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sugli interventi necessari per evitare che la scia di sangue non debba proseguire oltre.